Ai miei clienti propongo installo caldaie e sistemi di riscaldamento Junkers perché sono prodotti affidabili e di qualità, tecnologia Bosch. Con Junkers sono in grado di soddisfare ogni esigenza di comfort, dal semplice scaldabagno alle caldaie, dai pannelli solari fino alle nuove pompe di calore. Faccio parte del club installatori Junkers, sono puntualmente aggiornato su nuove normative e prodotti e se ho un dubbio posso rivolgermi al centro assistenza ufficiale SAR Service che da 40 anni opera ogni giorno con i suoi tecnici da spotorno a ventimiglia. SAR Service buongiorno, le mando subito un tecnico. Per il calore di casa tua scegli i prodotti Junkers Bosch e l'assistenza SAR Service.